Dire Straits, Sultan South Wing, 8.13 minuti, inizia la seconda ora di trasmissione qui su Cristal Radio con Good Morning Milano, buongiorno ancora a tutti, 3317853555, grazie per i whatsapp che sono arrivati anche in pausa, grazie Marco, grazie Luisa per il buongiorno che entrambi ci date, grazie anche a voi, buona giornata e buon inizio di giornata. Allora andiamo avanti con invece un ospite nuovo che ci ha raggiunto qui in studio, parlo di Andrea Foschi, buongiorno Andrea, buongiorno buongiorno a tutti, abbiamo tante cose da parlare con te Andrea perché tu fai parte di questa cooperativa giusto? L'impronta, che però è un'impronta bella gossa perché lasciate l'impronta in tante situazioni che andate a toccare nella zona sud di Milano, diciamo più o meno, l'ultima in ordine cronologico è la nascita di Boom, che non è un'esplosione, o meglio forse anche un'esplosione di gusto e di bontà, mi verrebbe da dire, ma che è l'acronimo di Buoni Un Mondo. Esatto, sì, è una, diciamo, un'ennesima, devo dire, attività di impresa sociale che il nostro gruppo di cooperative, Gruppo L'impronta, appunto ha realizzato e ha lanciato proprio adesso, a gennaio, quindi è aperta da circa un mese. E che cos'è Boom, allora? Che cosa troviamo all'interno di questa realtà e nel quartiere del Vigentino, giusto? Sì, dunque, Boom è un'attività di impresa sociale che ha proprio lo scopo di inserire al lavoro le persone in difficoltà, le persone con fragilità e in particolare persone con disabilità, che è un po' la mission del nostro gruppo, Gruppo L'impronta. È uno spazio molto bello, perché la bellezza, devi incontrare poi anche il tema della solidarietà, che si trova in Via Antegnati, che è una bretella, diciamo, una strada che porta da Ripabonti verso la Cinco Valazione, quindi a Tigua, al Parco Agricolo Sud. È un bellissimo spazio dove si fanno tante cose. Allora, intanto è un panificio pasticceria, con cose molto buone e ovviamente abbiamo due cuochi professionisti che sono supportati dai ragazzi fragili, ma è anche uno spazio di ristorazione, perché appunto si può fare colazione, si può mangiare anche a mezzogiorno, si possono organizzare dei cocktail, si possono organizzare delle feste e la particolarità è che si trova all'interno di un, diciamo, di un quartiere che si chiama Five Square, che fino a due anni fa era un luogo totalmente desolante. C'erano praticamente delle pareti di cemento armato abbandonate dagli anni Ottanta, che fortunatamente, grazie ad un investimento anche in termini poi di housing sociale, sono state recuperate. Adesso sono stati costruiti cinque, diciamo, stabili, cinque edifici, che praticamente incorporano ben 400 appartamenti. Quindi diventano un quartiere di Milano che sicuramente aveva bisogno anche di uno spazio per i cittadini. E Boom risponde anche all'esigenza di essere un luogo di ristorazione e di incontro per il quartiere. Quindi anche il panettino del quartiere è diventato a questo punto, che è una cosa che in altri quartieri si va a perdere. Quindi fate del bene. Allora, chi ci lavora dentro? Gli educatori che poi collaborano e lavorano per rendere al meglio all'interno di Boom e al territorio intorno. Esatto, perché per noi l'idea è questa, che la disabilità e la fragilità non siano ghettizzate, ma sono delle persone assolutamente cosiddette che si devono integrare con gli altri, si devono colloquiare, devono essere inserite anche nel mondo del lavoro, per cui c'è questo legame forte anche con i nuovi cittadini del quartiere FI Square. E l'impronta non è solo però Boom, diciamo, adesso nelle ultime settimane è questa la notizia, perché appunto vi state preparando anche all'estate, so che avete già l'idea di allargare, di fare più posti per l'estate, giusto? Sì, attualmente Boom ovviamente ha 45 posti a sedere nei nostri tavolini, poi andremo anche fuori col caldo, tra l'altro il caldo sapete tutti che arriva presto, e quindi raddopperemo sugli 80 posti. Cerchiamo il lato positivo del climate change, e il fatto che Boom potrà mettere più tavolini e noi potremo andare a aiutare questa attività. Esatto, un'altra cosa interessante di questo nuovo locale, per noi significa anche fare cose diverse, perché prima eravamo in uno spazio molto ridotto, adesso produrremo anche la pasta fresca, quindi fatta sempre appunto artigianalmente, faremo anche degli snack salati, faremo prossimamente anche panettoni e pandoro, quindi la produzione si amplifica e la sfida si amplifica. 8-17 del mattino, parlarmi così, davvero, faccio fatica adesso, è un po' così, la salivazione è accelerata. Andiamo con la musica Gaia con Tokyo, e poi torniamo sempre qui con Andrea per parlare di Boom, dell'impronta, e di come veramente si può lasciare l'impronta in questa città. Andiamo avanti, Gaia, Tokyo! Gaia con Tokyo, non dovete andare fino a Tokyo per vedere cose belle e buone, potete farlo tranquillamente anche a Milano, ad esempio, grazie all'impronta. E qui con Andrea Foschi stiamo raccontando di Boom, ma anche di tutte le altre iniziative che avete. Fuori a noi dicevi che sono i numeri la cosa che vi fa impazzire, non nel senso di like, o che adesso sai che i numeri sono quelli, like, follower, così. No, sono persone che avete avviato al lavoro. Sì, abbiamo raggiunto dei numeri importanti, siamo circa 80 persone con disabilità inserite in maniera stabile nel mondo del lavoro. Sono persone che difficilmente sarebbero riuscite a entrare, secondo i canoni tradizionali dell'accesso del mondo del lavoro, perché sono persone che hanno bisogno anche di tutor. Però la nostra esperienza ci permette, diciamo, di garantire quell'ambiente, quella tutela, per cui queste persone riescono a reggere le fatiche del lavoro. Con che tipo di disabilità lavorate? Disabilità essenzialmente cognitiva, di diversi livelli, poi ovviamente ci sono anche persone con disabilità fisica, ma appunto disabilità assolutamente variegata, quindi dall'autismo alla sindrome di Down, al ritardo, al disagio psichico, sono tante persone diverse. Tanti professionisti che servono però per poter gestire. Ovviamente abbiamo i nostri professionisti, abbiamo i nostri cuochi, nel nostro campo agricolo abbiamo anche il nostro agronomo, abbiamo il nostro addetto alla trasformazione alimentare, che lavorano però insieme ai ragazzi. Cosa interessante, lì impronta che voi siete andati a creare fondamentalmente una filiera alimentare da zero alla tavola, no? Esatto, l'obiettivo era proprio questo. Ci siamo un po' inventati in un'attività nel 2012, senza averne le competenze, abbiamo aperto un ristorante che si chiama Gustop, che è in zona via dei Missaglia, che è un self-service di qualità che ha 250 pasti al giorno, che serve soprattutto, diciamo, alle aziende del territorio. Lì sono inseriti otto ragazzi con disabilità. Poi ci è venuto l'idea, ma perché non riuscire anche noi a produrre gli stessi alimenti? Allora abbiamo aperto il panificio pasticceria, poi abbiamo aperto un'attività agricola, si chiama Agrivis. Abbiamo acquistato un terreno agricolo di quattro ettari dietro lo IEO, quindi in fondo a via Ripamonti, lì facevamo agricoltura biologica, ma da un anno trasformiamo i prodotti in un laboratorio. Ah, quindi tutta la filiera è coperta da voi. Tra l'altro, sul territorio milanese avete preso un... Sì, tutto nel territorio milanese, anche il campo agricolo è dentro i confini della città di Milano, credibilmente. Che quindi, pensa che invece, è incredibile da sentirlo dire, ma ricordiamoci sempre una cosa, magari non la sarei andata questa, che Milano è il secondo comune agricolo d'Italia. Sì, esatto. Quindi pensa che... Quasi tutto è nella vostra zona, tra parentesi. Nel parco agricolo. Perché c'è questo parco agricolo veramente immenso, parco agricolo sud Milano, poi sconfina anche fuori dai confini del comune di Milano, ma in comune di Milano ci sono tantissime aree agricole che, e l'impronta ce lo fa capire l'ennesima volta, sono importantissime da mantenere, perché non è solo oh che bello, voglio vedere i fiorellini di campo che crescono, ma è economia, è aziende, e in questo caso anche aziende sociali. Aziende sociali, noi abbiamo puntato non sulla monocultura, ma sull'orticoltura, quindi vuol dire avere un appezzamento, coltivare le verdure di stagione, i piccoli frutti di stagione, anche per dare poi un senso al lavoro, c'è anche molto lavoro manuale, perché per questi ragazzi è fondamentale. E quindi è anche una valorizzazione del territorio, oltre che dare un'opportunità di lavoro a chi non lo avrebbe. E poi continuiamo allora con la musica. Andiamo avanti con un po' di musica. Adesso Andrea, ci fermiamo un attimino, possiamo sgranchirci anche le gambe un secondo, ma torniamo poi subito qui, dopo un piccolo spot pubblicitario, e continuiamo a parlare ancora dell'impronta, di boom, di tutto quello che fate sul territorio milanese, e anche del perché lo fate, perché questa è una domanda che ci si fa spesso. E quindi preparati una risposta degna delle grandi lucubrazioni sul perché qualcuno ha una spinta a fare qualcosa del genere. Anche a voi, appuntamento fra poco, continuate ad ascoltarci, la musica su Crystal Radio, adesso è il momento di Max Gazze. Luca Carboni, mare mare, ed è subito vacanza, ed è subito viaggio con questa canzone. Ahimè, invece siete a Milano, mi spiace, quest'oggi siete bloccati sulla tangenziale, dove siete? Siete nel traffico, ma prendete un tram che vi fa passare più velocemente, oppure una bella metropolitana e andate qui in mezzi, che funziona meglio. Siamo qui con Andrea Foschi, buongiorno con Andrea, stiamo parlando dell'impronta che lascia la vostra impresa sociale chiamata l'impronta. Un po' lungo, un po' lo slogan firmato l'Inavverto Müller, ma va bene. Non solo Boom, non solo la realtà di cui stavamo parlando, ma tante altre. Abbiamo stito una filiera completa che va dal campo agricolo fino alla tavola dei ristoranti, ma anche c'è il dopo cena, volendo mi dicevi, no? Posso andare a diventare con gli amici? Abbiamo un locale più piccolino, però molto carino, si chiama Rab, Rab, bar al contrario, lo leggo il contrario, che è in corso San Gotardo 41, anche lì ci sono progetti di inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità, è un locale molto accogliente, sembra di essere in famiglia quando si entra, quindi ve lo consiglio, è molto carino. San Gotardo, è sempre più importante anche riuscire a collocare proprio sul mercato questa offerta che si fa, perché poi dicevamo, ok, è bello quello che si fa, ma se poi non ha un risconto con il pubblico, non deve essere concepito come vado da boom per fare della beneficenza, vado da boom perché la roba che fa boom è buona. Esatto, è un approccio completamente diverso, tra l'altro non è nel nostro stile neanche manifestare troppo che dietro ci sono delle storie dei nostri ragazzi, ma uno lo scopre entrando, quindi il cliente entra, si può bere un buon caffè, mangiare la nostra brioche, e poi scopre che c'è anche un progetto sociale. E quindi qual è il tema? Il tema è essere sul mercato e avere qualità, perché è inammissibile che uno possa andare avanti solo col tema della solidarietà pure della beneficenza. L'idea è che la cooperativa sociale sia in grado di entrare nel mercato e fare delle attività competitive e che però abbiano anche un valore sociale. Questo anche è il binomio che può nascere invece con il mondo del profit, con il mondo delle aziende. Sì, il mondo delle aziende sta cambiando nella relazione col terzo settore, perché adesso ci sono tanti obiettivi anche di sviluppo sostenibile, quelli dell'agenda 2030, gli ESG, la responsabilità sociale d'impresa, per cui c'è molta più attenzione e per noi quindi il rapporto col mondo profit è fondamentale, quindi abbiamo tantissimi clienti oltre ovviamente i consumatori cittadini ma anche le aziende di medie e grandi dimensioni che acquistano i nostri prodotti e con le quali facciamo anche dei progetti di inserimento lavorativo sempre di ragazzi con disabilità. E per chi magari si fosse collegato solo adesso ricordiamo che sono dei numeri altissimi, ricordiamo ancora più di 80 persone che in questo momento sono inserite, giusto? Sono inserite nelle nostre cooperative del gruppo l'importo siamo 5 cooperative che fanno attività diverse ovviamente quella principale è legata alla filiera alimentare poi abbiamo anche due altre attività un po' più piccole una è di delivery abbiamo organizzato un progetto di delivery per un'azienda del territorio per cui 18 ragazzi con disabilità tutti i giorni dagli store dell'azienda portano dei piccoli prodotti con uno zaino usando i mezzi pubblici verso i clienti della città. Questa è sostenibilità e zero emissioni davvero? solo la sua delle scarpe si consuma in quel caso esatto e 18 poste di lavoro che non sono pochi e riuscire a unire questa cosa qui la cosa interessante è però capire una cosa invece qui entriamo un po' nel tuo più che altro ma chi te lo fa fare? perché una mente come la tua che mi sembra una bella sveglia potrebbe benissimo fare altro nella sua vita invece hai voluto fare questo? effettivamente sì io ho una storia ai tempi probabilmente ero uno dei primi perché io mi sono laureato in economia negli anni 90 e invece di fare marketing mi sono occupato subito di terzo settore quindi ci ho creduto dall'inizio poi questo terzo settore è diventato un vero proprio settore dell'economia italiana molto importante e per cui diciamo le soddisfazioni poi arrivano perché la diciamo la dimensione di queste attività sono cresciute e in particolare invece per quanto riguarda l'impronta quella dell'impronta è una bellissima storia perché nasce in un quartiere difficile che è quello di Grattosoglio grazie ad un gruppo di volontari che frequentavano una parrocchia San Barnaba ovviamente la parrocchia che esiste ancora quel gruppo di volontari incontrò un ragazzo paraplegico e decisero di dedicarsi a lui per fargli fare delle attività ludiche per fargli fare una vita normale da lì iniziò la storia di un gruppo di volontari che è diventato adesso un'attività di impresa sociale veramente importante sul territorio milanese e quindi si può fare oggi sono sulla slogan vado però è interessante come da una storia di una richiesta singola appunto di questo ragazzo da un incontro da un voler aiutare una persona singola ormai siamo arrivati a dei numeri davvero importanti non solo gli 80 di cui parlavo prima ma sono davvero tantissimi sì poi c'è tutto il personale educativo quindi sono tutti gli educatori alla fine noi siamo arriviamo quasi a 350 persone che lavorano nel gruppo e insomma altro che piccola media impresa andiamo avanti con la musica Purple Disco Machine Duke Dumont Nothing About The Thieves 8 e 39 minuti Crystal Radio continuiamo con Good Morning Milano fino alle 9 qui in diretta e poi dopo vedo un paio di cose perché Sanremo si avvicina e ho bisogno che diate una bella scossa al nostro Fanta Sanremo Purple Disco Machine Duke Dumont Nothing About The Thieves sono loro alle 8 e 42 minuti ancora qui con Andrea Foschi dell'Impronta allora stiamo parlando di quanto fate sul territorio milanese e si può anche dare una mano a quello che fate e soprattutto anche in attività più a livello sociale che avete all'interno della vostra realtà sì esatto oltre alle attività di impresa sociale abbiamo anche attività più di carattere educativo socio-sanitario abbiamo appunto delle comunità dei centri diurni degli appartamenti per famiglie in difficoltà per cui chi volesse darci una mano per queste attività prettamente sociali lo può certamente fare posso dare magari una mail allora info chiocciola gruppolimpronta.it gruppolimpronta.it è ovviamente anche il nostro sito per cui ci potete contattare lì e lì potete scoprire anche le nostre attività chi è che può venire a darvi una mano chi è che può essere il volontario tipo ma per esempio nella nostra comunità per minori che sono appunto dieci bambini che devono vivere in comunità perché hanno delle famiglie molto in difficoltà alle spalle con delle storie purtroppo molto difficili si può dare una mano per preparare la cena dare un supporto per il dopo scuola insomma ci sono tante cose che poi si possono anche giovani ragazzi universitari ragazzi universitari magari il dopo scuola può essere una cosa che possono dare una mano esatto possono aiutare i ragazzi a fare i compiti anche un metodo di studio dargli un metodo di studio ah ok no no io sono escluso da quello sono escluso però ho delle bravissime producer che potrebbero tranquillamente aiutare perché sono davvero dei fenomeni delle ragazze che passano qua da Good Morning Milano le coordinate invece per poter capire di più ci sono anche sui social giusto siete sì abbiamo anche un'attività social quindi sempre il nome della nostra pagina è Gruppo L'Impronta Gruppo L'Impronta tutto scritto da capo esatto sia Facebook che Instagram quindi lì potete aggiornarvi e insomma tante le attività che fate soprattutto nella zona diciamo del sud Milano nella zona lì ma in realtà praticamente su tutta la città comunque vi espandete piano piano stiamo crescendo le impronte sono sempre di più le impronte più o poi diventeranno le impronte dovete andare al plurale ormai siamo già al plurale dovete andare al plurale fa un po' vabbè comunque Andrea io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato qui con noi questa mattina per averci raccontato una realtà interessante che fa tanto sul territorio milanese che dà anche poi una speranza che insomma questa città sia un po' più per tutti sì una città più inclusiva adesso si parla di Milano un po' più aristocratica e difficile invece questa è una città inclusiva che noi vogliamo sostenere quindi grazie a voi per l'invito ma grazie a te Andrea andiamo avanti con la musica allora adesso perché è il momento di Sfera e Basta con Marrakesh insieme per questa 15 piani 331 7853555 numero di Whatsapp noi siamo sempre qua fino ancora 10 minuti e poi dopo vabbè c'è Ambrogio senti questa il giornale radio insomma c'è tanta 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 roba qui su Crystal Radio e poi